Siamo qua con Eddie e stiamo per salire di là, che io dico saremo lì in 45 minuti. Eddie dice che devo portare giù macchine già stasera. Sì, secondo me è l'ideale, così domani è di risparmi la corsetta. Sì, vabbè. E oggi fai qualcosa? Non ti avessi un'idea. Che bellezza. Il rifugio è lì, là sopra. Ecco, adesso con Eddie siamo arrivati qua al rifugio e di là domani dobbiamo passare sopra e poi andare dietro su. Oh, e legge qua. Cosa c'è scritto qua? Weingartensee. Wein. Allora andiamo di là. Ho cambiato idea. Dobbiamo andare là. Siamo davanti a Teichhute e Eddie aveva problemi con le crocs perché non riusciva a trovare tagliare con colore giusto. Ho preso questi qua e lui poveraccio non ha avuto più scelta, ho preso quelli grigi. Eh, perché non voglio dire uguali, però io non voglio dare. Eh, non voglio dare. Eh, non voglio dare. Eh, non voglio dare. Wow, che spettacolo. Adesso con Eddie andremo lì sulla cresta. Abbiamo deciso che via classica non è per noi, quindi la cresta. Il chiodo da agghiaccio l'hai portata di mano? No, però lo posso mettere a portata di mano, ma qua non serve ancora. Il chiodo da agghiaccio l'ai portata di mano. sono più alto di sole però sono meno trasparenti no, sono fotogromatici fotogromatici? sono più scuri adesso però non hanno una lente molto apprezzabile tutto posto? bene non è proprio non è proprio non è proprio non è proprio c'è il figlio ce l'ho fatta anch'io bravo Franco ma questa mica sarà già una cima potrebbe essere si wow quante gente è davanti quello davanti è dom molto bene quindi Berkel come sempre però ti è piaciuto quando ti trascinavo? come? quando ti trascinavo ti è piaciuto ma è solo che era durato troppo poco dobbiamo migliorare quella tecnica secondo me questa è amplamente migliorabile vediamo questa qua ok cos'è? la sera sicuramente vento è buono sono 15 km 10-15 km ma va bene si può fare pure dinamiche magari magari vediamo spero che spettacolo il giù salete esatto è top è buonissimo eh? si veramente buono non è amaro è buono buono i gonfiaggi sulla cima di Alphubel guarda che qua mi tiene bene anche si un po' variabile però va bene e giù e giù e giù ormai no tipo così vedi vediamo vediamo se funziona adesso da on' qui ed il decolo se va bene è sempre che c'è eeeh 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 wow dinamica eeeh eeeh v v i in in ehi ha wow wow Sì E anche di volo Questo va a fare Ma me ne vado della discendenza Vediamo se c'è termica E c'è termica Però c'è C'è termica 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 C'è termica